Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale, oggi presentiamo un saggio pubblicato da pochissimo da Carocci dal titolo Le civiltà letterarie del Medioevo Germanico, a cura di Marco Battaglia, che abbiamo il piacere di avere nostro gradito ospite e al quale io lascio subito la parola perché ci parli di questo Medioevo Germanico e delle civiltà letterarie. Prego professore, a lei. Buon pomeriggio. Il volume che oggi cercherò di presentare insieme a voi si concentra su testimonianze disseminate in aree linguistiche affini, ma in epoche molto diverse. Si tratta di documenti letterari in volgare prodotti dalle culture germaniche alto-medievali. Ora, trattandosi di letterature medievali, è essenziale preliminarmente considerare due aspetti cruciali. Il primo, che questi documenti non rispondono ai criteri moderni di autorialità legati al talento creativo, all'ispirazione di un autore isolato. Gli autori del Medioevo erano più spesso emulatori o riarrangiatori di prodotti, in molti casi già ibridi. Secondo punto, si tratta di testi che possono apparire come fluidi, se naturalmente interpretati secondo le categorie ermeneutiche della cultura moderna. Essi in realtà sono riconducibili a culture in cui originariamente prevalevano meccanismi di trasmissione orale, cioè collegati a rilevanti funzioni culturali e sociali, e dove quindi l'arrivo dell'alfabetizzazione e l'arrivo della scritturalità non rappresentava il risultato di un processo evolutivo direttamente sbocciato da una cultura orale. Come altrove, il prime move di questo fenomeno sarà rappresentato dal cristianesimo, dalla cultura cristiana. Le letterature germaniche medievali sono dunque il risultato dell'interazione della cultura scritta con una cultura di tipo orale, vocale, attraverso la sintesi operata dal cristianesimo che profuse per questo obiettivo, per questo fine, energie come mai forse nessuno aveva speso prima, soprattutto per lo sviluppo di questo nuovo medium. Come emerge dai lavori di noti antropologi che sono occupati comunque di antropologia della scrittura anche nel secolo scorso, penso a Jack Goody, a Eric Havelock, a Walter Hong naturalmente, o per il mondo più specificamente certo germanico Michael Richter. Non tutte, dai lavori di questi antropologi emerge con chiarezza che non tutte le culture cosiddette illetterate, illetterate dell'alto medioevo, potevano dirsi esclusivamente orali, proprio come le culture orali non erano, non possono essere sempre definibili come illetterate, ma parte di risultato del lavoro, dell'esperienza di comunità complesse, di culture che operano nell'ambito della scrittura, della lettura e dell'ascolto. Quelle che nelle fonti, diciamo latino medievali, vengono descritte col termine un po' così sbrigativo di illetterati, cioè di figure prive di educazione classica, attenzione, non prive di cultura. Un elemento che in assenza allora all'epoca di una società letterata di massa, punta dunque a definire piuttosto quello che gli americani chiamano literate culture, cioè una cultura letterata, non una società letterata, cioè un sistema ideologico egemone in una cultura prevalentemente ancora preletterata, che come tale poteva aver certamente contatti con la scrittura, con l'epigrafia, che non è letteratura infatti, pensiamo, non so, ai graffiti pompeiani, a certe iscrizioni dedicatorie a divinità, accelto latino germaniche, oppure le incisioni su tavolette lignee nelle guarnigioni romane al Vallo di Adriano, o come anche più tardi alle gramoti russo antiche incise su scorza di betulla, o come ad esempio le formule cristiane lettere d'amore scritte contabili e incisi in caratteri runici, le rune appunto, nel mondo germanico. Una condizione che sottolinea una volta di più come la conoscenza della scrittura è insufficiente a produrre di per sé una cultura letterata. Lo studio della ricezione del fenomeno ulterario dell'Alto Medioevo ha subito, all'inizio degli anni Ottanta, una svolta significativa a partire dai risultati del lavoro di uno storico delle idee, anche antropologo, che si chiama Brian Stock, il quale fu forse il primo a mia memoria a considerare in modo più definito che in passato il ruolo delle cosiddette comunità testuale, nelle quali l'appartenenza a questi gruppi sarebbe stata mediata da figure entrate in contatto più o meno sporadico con forme di alfabetizzazione, non necessariamente o non sempre letteraria, le figure anche che per esempio nel basso medioeuropeo vengono definiti ministeriales. Si sarebbe trattato cioè di intermediari semiletterati in grado di leggere, anche di riadattare testi scritti ad alta voce ad un pubblico di ascoltatori illetterati, esattamente come già accadeva per esempio nel caso delle omelie in chiesa. Quindi proprio, anzi direi è proprio la nuova fede che tra il VI e l'VIII secolo favorì la nascita di una cultura letterata medievale attraverso l'appropriazione, forse sarebbe meglio dire la rielaborazione della cultura scritta greco-latina, della cultura classica di cui la chiesa fu indubitabilmente erede e continuatrice in forme più semplici che, se necessario, certo ricorrevano anche all'allegoria ma non era mai fine a se stessa o indipendente ma sempre legata o sempre dipendente meglio a un messaggio cristiano, al rapporto con Dio. Per realizzare un simile progetto naturalmente l'unico canale disponibile allora era il clero, il clero prevalentemente delle fondazioni monastiche che in occidente era detentore, come è noto, del monopolio della cultura scritta, benché poi al suo interno esistessero anche frange con un livello modestissimo, se non nullo, di conoscenza del latino. In questo senso chi ha visto il film tratto da libri, il nome della rosa, insomma ci sono esempi eloquenti. Scrivere però significherò per secoli scrivere in latino e basta, coerentemente con la natura dei primi testi liturgici e dottrinari in circolazione e come conferma soprattutto la storia di questo verbo in tutte le lingue germaniche salvo che in inglese, dove appunto deriva, il quale appunto verbo nelle lingue germaniche salvo in inglese, deriva dal latino, schreiben, scriva, schreven, eccetera. I primi documenti del patrimonio culturale germanico messi in forma scritta, quindi tra sesto e quinto, sesto e tredicesimo secolo, dipendeva quindi da iniziali esigenze di ordine catechetico e liturgico, la traduzione dei testi sacri, o di natura più pragmatica, transazioni, accordi, glosse, frequenti, glosse a testi latini, documenti amministrativi o giuridici, annali, anche opere medico-farmaceutiche, testi scientifici, sui quali in una seconda fase, però un po' più matura, si innestarono delle vere e proprie rinascenze, rinascite culturali. Penso, non so, la rinascita carolingia, la rinascita alfrediana, quella benedettina e ancora quella ottoniana o una rinascita, si può parlare di una rinascita norrena. Quanto però le informazioni minime sulle tradizioni letterarie germaniche siano limitate, ce lo dicono i fatti. Ai molti lavori dedicati alle lingue volgari e romanze non corrispondono, indagini altrettanto diffuse mediamente, sul patrimonio letterario delle culture germaniche, cioè quelle culture antenate dell'inglese, del nederlandese, delle lingue scandinave e naturalmente anche del tedesco, oltre naturalmente a quelle lingue non più o mai attestate. Penso al gotico, penso al vandalico, penso al burgundo, penso al longobardo. Una persona di cultura media conosce più o meno, ha sentito parlare della chanson di Roland o della poesia dei trovatori. Molte poche persone, molti meno persone, sanno che cos'è il Beowulf. Ancora meno forse conoscono la saga dei Volsungi, che paradossalmente fu l'oggetto di ispirazione prevalente della tetralogia di Richard Wagner. In questo volume, che appunto oggi presentiamo, vediamo insieme, il compito di valorizzare in modo non banale le singole aree linguistiche e culturali non era semplice, anche per la grande diversità nella tipologia di attestazione, nella ricchezza, nella, come dire, limitatezza di certe tradizioni. Per esempio, la letteratura gotica. Della letteratura gotica non si possono tralasciare le difficoltà legate alla traduzione di un'opera così peculiare come la Bibbia, che introduceva concetti dottrinari, norme comportamentali, del tutto inediti prima, della cristianizzazione ovviamente. Ostacoli che i traduttori gotici guidati dal vescovo di fede ariana, attenzione, Wulfila, superarono, direi, brillantemente, mostrando peraltro anche grande sensibilità linguistica e competenza della lingua greca del testo originario, del testo fonte, perché il gotico, la Bibbia gotica è tradotta dalla Bibbia quella greca, la Bibbia dei settanta. Dai palinsesti sopravvissuti poi alla caduta del regno dei goti in Italia alla metà del sesto secolo o alla rasatura di quei manoscritti imposta dal cattolicesimo antiariano, anche, diciamola tutta, anche per gli elevati costi all'ora della pergamena, emergono le tracce perfino di un dibattito significativo di natura teologica, così come un sorprendente interesse emerge verso aspetti della cultura gotica sia dalla più tarda tradizione grammaticale di epoca carolingia, testi in latino di epoca medievale d'origine però carolingia, sia anche dalla successiva riabilitazione da parte dell'umanesimo messa in moto dalla riforma protestante e in fenomeni di tipo ideologico e nazionalistico a essa collegati che non è qui il caso di trattare. Diverso per esempio invece il caso del più ricco o relativamente più ricco patrimonio letterario antico alto tedesco centro meridionale, che diversamente dal gotico, che è limitato solo a traduzioni bibliche o commenti esegetici, un pezzetto, un commento esegetico al Vangelo di Giovanni, contiene in sé una tradizione ben più estesa, anche se in linea, diciamo da punto di vista quantitativo, comunque non è confrontabile con quella ricca varietà che fiorì nel periodo degli Hohenstaufen, diciamo circa dalla metà del dodicesimo e la metà del tredicesimo, quell'epoca d'oro che segna la vera nascita della letteratura tedesca. Fino all'undicesimo secolo, per quanto riguarda la letteratura tedesca centro meridionale, la grande eterogeneità dialettale, quindi problemi anche relativi alla mancanza di una lingua sovra regionale riconosciuta, la perdurante assenza ad esempio di un unico centro di potere e di cultura, le corti erano ancora itineranti molto spesso, il prestigio mantenuto fortissimo dal latino, sono tra le cause della sporadica presenza di attestazioni letterarie in volgare altro tedesco, sono limitate, certo molto più che quelle gottiche, ma ci si sarebbe aspettati forse molto di più guardando la tradizione di poco più recente. La letteratura tedesca antica resta un po' ostaggio, un po' compressa tra due ideali rinascite culturali, quella carolingia e quella ottoniana, che peraltro miravano soprattutto a rafforzare il latino che non il volgare, il latino come documento, come lingua di potere politico e religioso. Pertanto resta quella letteratura alto tedesca centro-medionale articolata su un piano prevalentemente locale, regionale. I contenuti però sono piuttosto eterogenei e comprendono un'importante traduzione, importantissima traduzione glossografica, oltre che naturalmente l'abbiamo già detto traduttiva, per esempio traduzioni bibliche, dottrinari, anche filosofiche e ancora una poesia religiosa, una poesia encomiastica e persino tracce di una poesia eroica, incantesimi e anche ricettari, che rappresentano in qualche modo, sono rivelatori in qualche modo di una tradizione orale ancora vitale. Un'altra eredità letteraria proviene dalle etnie tedesche più settentrionali, i sassoni, quei sassoni antichi, una confederazione politica di natura molto incerta peraltro e anche di lingua, irriducibile aggregazioni di genti pagane che vennero sconfitte dai franchi, cristianizzate con forza, talvolta con estrema violenza, intorno agli inizi del nonno secolo e assoggettate attraverso l'imposizione di una durissima legislazione, fino almeno alla formazione di alleanze con una nuova aristocrazia locale, alleanze che sancirono un po' la collaborazione politico-religiosa col Sacro Romano Impero, tale da lasciare tracce anche in ambito letterario. Anche qui il segmento principale si concentra intorno a una traduzione evangelica, interessante, in versi allitteranti e alla rielaborazione, anche qui in versi, di un documento famosissimo che è il Genesi Biblico, traduzione che curiosamente riaffiora nella tradizione letteraria anglosassone, inglese antica, del medesimo lavoro. Cioè un lavoro che è una traduzione antico-inglese del Genesi Biblico che a un certo punto, come se ripartisse da zero, e contempla la versione antico-sassone, caso interessantissimo, più unico che raro. Ed è proprio la cultura letteraria anglosassone che condensa forse nel modo più eloquente una ricca miscela di oralità e cultura erudita, di crisi culturali in certi periodi e di rinascite. Ricordo l'Inghilterra anglosassone, la ex Britannia romana, venne cristianizzata da due missioni, una settentrionale precedente, dall'Irlanda, e l'altra invece più legata al potere della Chiesa romana, con comitanti antagoniste, fortemente antagoniste, almeno fino al 664 al sinodo di Whitby, ma relativamente tollerante nei confronti della cultura preesistente. Questo è un dato straordinariamente importante. Secondo punto, questa precoce cristianizzazione produce dei frutti incredibili, attraverso la fondazione di numerose istituzioni monastiche di elevato livello dottrinario e culturale, che promossero naturalmente per ragioni collegate poi l'inizio di una diaspora di nuovi missionari molto alfabetizzati, molto colti, verso il continente, verso la cristianizzazione del regno franco, che ancora segnava il passo. Molti eruditi anglosassoni finirono poi fondatori di abbazie importantissime di centri di cultura e morirono poi nel continente. Uno su tutti alquino, tanto per dire. Registrata probabilmente già a partire da antichissime annotazioni, appunti omiletici, frammentari che vennero copiati successivamente, la letteratura anglosassone prese avvio con la codificazione del diritto nel regno del Kent nel VII secolo e si concluse ben oltre l'arrivo del feudalesimo continentale importato dai normani. Quindi esiste una letteratura antico-inglese che continua per un breve periodo anche dopo l'arrivo dei normani, l'introduzione a corte di una lingua non più germanica. La letteratura qui è connotata da un'ampia attività glossografica, da numerose traduzioni di testi eruditi latini, ma anche da una significativa documentazione giuridica, testi medici ed erbari, annali, abbinati naturalmente ad una raccolta, in questo caso che ha pochi uguali di natura, diciamo, omiletica. Sermoni omelie raccolti in un numero che non ha pari. Testi quindi che accompagnano una varietà poetica che è quasi impareggiabile nel panorama germanico dell'Alto Medioevo. L'eredità della poesia locale contempla sia tematiche religiose, sia epico-eroiche, di natura mista, religiosa, ma dalla quale forse emergono tratti pre-cristiani, ed evidenzia inoltre un importante genere sapienziale e un genere letterario, forse un sottogenere letterario direi di natura attualissima, le elegie. Questo genere elegiaco che soprattutto in area anglosassone riflette molto sulla caducità dell'essere umano, proponendo considerazioni molto attuali, oltre a una interessante raccolta di incantesimi condivisa con la tradizione alto tedesca antica. Il patrimonio invece letterario antico frisone è attestato da una serie di copie redatte purtroppo in un'epoca molto recente, anche perché la posizione geografica tra quittrini, aree soggette a inondazioni, eccetera, ostacolò almeno fino alla metà del XII secolo una presenza costante della Chiesa e quindi di strutture culturali significative, scuole monastiche, biblioteche. Qui la fioritura letteraria a partire dal XIII secolo sembra determinata, fortemente determinata, da istanze ideologiche e rivela un grande interesse giuridico unito a testi, però in abbinamento con testi, che esaltano il concetto di libertà e autonomia atavica della frisia e dei frisoni, elementi che peraltro sono anche tipici della letteratura regionale un poco più tarda medio-nederlandese. Di natura completamente diversa è infine la tradizione letteraria della Scandinavia medievale, Scandinavia convertita tra il X e il XII secolo e con un conseguente corrispondente, quindi ritardo, nello sviluppo di una letterarizzazione locale, quindi di forme letterarie locali. Qui alla prolungata sopravvivenza della cultura orale, accanto naturalmente sempre al forte radicamento del latino come lingua scritta, soprattutto in Danimarca e Svezia, fece eco un più significativo sforzo verso la letteratura, specialmente di genere analistico e a geografico, operato con evidenti finalità politiche dalla corona della Norvegia, la corona norvegese. Questa iniziativa però, ed è un paradosso peraltro mai definitivamente chiarito, produsse i risultati più straordinari dove? In Norvegia. No, in Islanda. Una colonia di insediamento norvegese a partire dalla seconda metà del IX secolo. Non sono chiare a tutt'oggi completamente le ragioni di un simile successo letterario. In un'isola che contava poche decine e migliaia di abitanti. Un'isola distante mille chilometri dalle coste della madrepatria, dalla Scozia, dall'Irlanda. Qui l'esplosione di una, come dicono, lo chiamano la cultura angloamericana, di una literacy locale, fu avviata più o meno dalla fine del XII secolo, dopo la conclusione, questo sia chiaro, della cosiddetta era vichinga. E fu necessario naturalmente utilizzare e fu determinata in modo determinante questa fioritura culturale dal coinvolgimento del clero locale e del clero inglese dell'epoca. Ma fu in grado di generare una grande mole di narrazioni in prosa uniche nel loro genere. Quello che noi chiamiamo ancora oggi le saghe, un prodotto esclusivo nella cultura europea che contempla caratteri interessantissimi ed estremamente diversificati, studiati in lungo e in largo e che indussero un po' provocatoriamente Borges a considerare la saga il prototipo più antico del romanzo moderno, con le proprie strategie narrative, un proprio uso del dialogo, una propria psicologia anche solo abbozzata. Non vanno tuttavia immarginate accanto queste decine e decine di saghe che a tutt'oggi costituiscono un patrimonio enorme davvero di questa cultura, al quale anche gli islandesi sono molto legati, un genere poetico locale del tutto peculiare in Europa, cioè il verso scalbico, il verso usato dagli scaldi, questi poeti di corte, un ricercato genere encomiastico prediletto soprattutto, non esclusivamente dall'aristocrazia, ancora una ricca compilazione di testi giuridici, religiosi, anche scientifici e una straordinaria rivisitazione, questa sì veramente straordinaria, della tradizione linguistico grammaticale classica, tre nomi su tutti, quimpiliano, donato, prisciano, confluita in ben cinque, ripeto, cinque trattati grammaticali nell'Alto Medioevo, su quest'isola piccolissima, cinque trattati grammaticali che rivelano una competenza, una raffinatezza linguistica unica. Al centro di questa riflessione linguistica, diversamente dal resto di casi analoghi in Europa, si collocò proprio il volgare, cioè un'analisi attenta del volgare e dei suoi meccanismi, un'analisi, ripeto, rigorosa di esempi desunti proprio dalla poesia, da quella poesia di corte locale che si affiancò sia alla più antica eredità poetica di genere epicoeroico, sia a quella di genere mitologico. Io penso che ci potremmo anche fermare qui. Questo, diciamo, in grandissima sintesi è l'oggetto di cui tratta questo volume che invito quindi a leggere chi avesse voglia di avvicinarsi un po' di più a questa parte della cultura europea, molte volte completamente ignorata. Quindi bisogna assolutamente ricordare il titolo, in modo tale che lo possano acquistare, che è Le civiltà letterarie del Medioevo germanico, appena ripubblicato da Carocci ed è a cura di Marco Battaglia che abbiamo avuto il piacere di avere il nostro graditissimo ospite per questa presentazione. Io vi consiglio l'acquisto per capirne di più di aspetti letterari che spesso e volentieri, soprattutto in questi ultimi tempi, sono diventate delle vere e proprie mode. Anche nella nostra modernità vedi le saghe e tanti altri. Quindi vi ringrazio tantissimo Marco Battaglia di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi di questo invito. Vi invito a seguirci sempre sul nostro sito che è www.italiamedievale.org dove troverete tutte le nostre videopresentazioni e ovviamente alla prossima. Grazie ancora. Buon pomeriggio, arrivederci. Grazie ancora. Buon pomeriggio, arrivederci.